eccoci qui cari naviganti per un nuovo video un po particolare perché proviamo in questa occasione a fare un ragionamento sulla base di alcuni spunti che dei player o degli affassionati del nostro canale in particolare del centurino ci hanno chiesto rispetto a dei video che avevamo realizzato in passato cioè il fatto di vedere aggiornate le liste o comunque i contenuti di determinate deck tech che avevamo realizzato ovviamente non è possibile fare un rollback di quello che abbiamo realizzato magari uno due anni fa però possiamo fare una cosa un pochettino di diversa possiamo provare a analizzare i cambiamenti che nel corso del tempo la wizard con i suoi nuovi set e le nuove carte che ha proposto ha portato su alcuni mazzi e valutare quali possono essere le implementazioni le aggiunte o le cose rimosse rispetto a una lista del passato quest'oggi ci concentriamo su Irina Kudro un mazzo ovviamente a base agro che in quest'ultimo anno ha subito veramente tante modifiche e che magari vale la pena di rispolverare nell'ottica di prendere spunto da questo comandante e da tutto quello che è successo in quest'ultimo anno di uscite soprattutto a base umani per ragionare un attimino su quello che potrebbe essere una nuova lista attraverso quello che lo strumento compara all'interno di Moxfield abbiamo preso una lista di circa un anno fa periodo in cui era uscito il video dedicato a questo comandante e l'abbiamo confrontato con una lista decisamente più recente di qualche giorno fa che ha realizzato il nostro buon Michele Calise abbiamo così preso spunto da queste due liste e ci siamo accorti che ben 34 carte sì ci sono alcune terre ma in realtà ci sono molte carte nuove che hanno trovato posto in questa build ne hanno di fatto stravolto la costruzione e l'imprinting proprio perché alcune sono veramente così forti che hanno portato un deadbuilder rispetto all'altro a rivedere completamente l'impostazione se potrete notare nel link che metteremo qua in alto a sinistra sul video vi accorgerete che la build di un anno fa aveva sì un'impostazione basata sugli umani ma era più pensata per puntare su alcune strategie magari più specifiche agro non proprio sfruttando al 100% comandante qui invece si è puntato veramente sugli umani anche perché ne sono usciti veramente tanti ma andiamo con ordine proviamo a vedere cosa ci proponeva questo comandante nel dettaglio per poi ragionare su tutte le modifiche che sono avvenute con questo con questa build più aggiornata rispetto a quella precedentemente analizzata intanto vediamo che Ierina Kudro è un comandante che è uscito in comando al 2020 è un è un soldato umano e ha un paio di abilità piuttosto interessanti la prima dice quando Ierina Kudro entra nel campo di battaglia crea una pedina creatura soldato umano bianca per ogni volta che Eka sta lanciato il comandante dalla zona di comando in questa partita la seconda abilità dice gli altri umani che controlli prendono più 2 più 0 quindi sicuramente un mazzo che da un lato pompa il bordo soprattutto se abbiamo degli umani nella lista e dall'altra crea nuovi token in base a quante volte è stato castato chiaramente la build precedente pensava sia a creare molti token e a pomparne qualcuno nella zona ora invece come potrete vedere da questo breve elenco gli umani sono diventati così interessanti e ce ne sono di veramente così utili che val proprio la pena invece puntare a fare molto board e giocarne diversi in modo tale da sfruttare al massimo la seconda abilità più che la prima in particolare i set che hanno portato maggiori benefici sono quelli di Adventure of Gotterlands che hanno puntato a produrre pensiamo a Brutal Qatar ad esempio guardiamolo nel dettaglio questo è Innistrad Middain Antti in realtà ho sbagliato io ho confuso il logo a quelli che sono i comandanti che da una parte sono umani ma che diventano anche lupi mannari e che offrono chiaramente qualche abilità in più e qualche caratteristica in più pur mantenendo una curva relativamente bassa tornando sull'elenco vediamo che c'è anche carta al comando altra carta che può diventare una rimozione ha tutta una serie di umani a costo 1 che ben si incastrano con la curva del del mazzo ma soprattutto che sono dei 2 1 e che con i potenziamenti che ci offre il comandante può arrivare ad avere ben 4 di forza cosa non indifferente in un formato 25 punti vita abbiamo qui Miran Crusader un umano che anche cavaliere e quindi innesca delle altre caratteristiche un altro lupo mannaro che in particolare va a pompare un'altra creatura gli da rapidità e quindi ci permette di dare maggiore sprint alla nostra combat oltre a diventare ancora più interessante quando si trasforma il lupo mannaro e quindi dandogli anche travolgere abbiamo qui una serie quindi di enabler che vanno a fare un pochettino più di diciamo di consistenza nel board dando maggiore numero a quelli che sono gli umani presenti ad esempio venerlo knight da un più uno più un altro un altro cavaliere quindi ritorno un po il team dei cavalieri come per questo si vede il paladin in poche parole abbiamo puntiamo ad avere più umani in campo e quindi a fare in modo che il nostro board possa pomparsi molto di più grazie al comandante altra cosa che però è stata implementata e che prima praticamente non c'era era quella di lord specifici per gli umani in particolare intrepid adversary che ci offre un bel boost oltre a pomparsi a sua volta e poter eventualmente sfruttare le mani a disposizione per generare segnalini e quindi diventare ancora più grosso e ancora più interessante ma quello che più ci interessa è Rick che ci offre veramente dei plus incredibili soprattutto se abbiamo tanto umani in campo le abilità che lui ci permette di avere sono due tra first strike vigilance e lifelink e ovviamente tutti gli umani che avremo nel board avranno le abilità che ha lui a sua volta oltre ad avere più due più due se ne abbiamo almeno quattro in campo lui compreso chiaro che col comandante ci servono soltanto altri due drop e quindi le cose si fanno veramente interessanti in un board abbastanza nutrito altro gruppo di creature che è stato implementato e che a nostro avviso dà veramente un bel plus è quello di avere l'abilità blitz abilità blitz che è ben rappresentata dagli aziz e tenenze usando dog che ormai è diventato una staple nel nero proprio perché può essere ricastrato con l'abilità blitz direttamente dal cimitero è chiaro che la somma di queste caratteristiche unite a tutti gli altri umani che sono presenti vedete bene che può diventare molto interessante e ci può permettere come ad esempio in questo caso di creare copy del di un altro un altro target creature che controlliamo per dargli rapidità per creare altri effetti e magari pompare ulteriormente il nostro board per farlo diventare ancora più minaccioso una cosa che invece è stata tolta dalla precedente lista che invece ne conteneva era il pacchetto spade c'era un mezzawas jitte e mcleave e stone for mystic carte che attualmente non trovano più posto proprio perché sono aumentati così tanto gli umani efficaci e che fanno squadra con quelli già presenti che questi tre slot sono stati impegnati da carte che magari danno più impatto a semplicemente pompare una singola creatura quindi l'approccio è proprio di creare uno stuolo di abitanti e quindi fare molto più board non soltanto con le pedine del comandante ma anche con altri meccanismi altre carte che trovano a posto e che miracolosamente ci danno la possibilità di pescare nuove carte e che sono lungo umani sono l'expera sentine e un lucky witness carte che ovviamente sono recentissime e che quindi nel precedente build non ci potevano essere e che qui fanno un'ottima figura sia perché sono dei drop bassi sia soprattutto perché ci offrono del card draw aggiuntivo senza grossi sforzi e sfruttando caratteristiche che comunque li permettono di essere umani fanno squadra e aiutano a fare diciamo value all'interno del campo per quanto riguarda le protezioni le cose sono un attimino cambiate perché prima c'erano più protezioni singole pensate magari per proteggere il comandante che era un po' più la pietra angolare del mazzo ora diventa un ottimo comprimario ma non è fondamentale visto che possiamo avere dei lord e di altre carte che da sole possono fare comunque vantaggio e consistenza e quindi ci preoccupiamo di più con il mantra di proteggere l'intero board quindi parliamo di tutte le creature non soltanto di qualcuna resta comunque valido original martir però diciamo che più pensato per l'effetto di counter che magari rigenerare una singola creatura proprio perché vogliamo proteggere tutto il board soprattutto quando è numeroso e per farlo diventare ancora più numeroso ci sono nuove carte oltre ad alcune vecchie queste di nuovo arrivano da innistrad che ci permettono di fare di nuovo dei token umani quindi aumentare la loro forza grazie al comandante quindi fare ancora più squadra magari anche con ricchi in campo e quindi con adeline e jern che a sua volta può diventare un enorme ciccione con determinati effetti con le sue abilità che tranquillamente lo fanno diventare un 66 con travolgere lifelink e volare e oltretutto ci permettono anche di pescare avessimo necessità di avere nuova benzina fare il paio con gutter of the township townsfolk che ci dà o due pedine o addirittura cinque se abbiamo solo cinque punti vita per un pump del board estremamente elevato che ci può veramente fare svoltare la partita quando siamo anche magari in grossa difficoltà quindi qui altre carte che prima non c'erano e che rinforzano pesantemente la tribe e che fanno in modo di avere molti oggetti molti molti token molte molte creature umano che con ovviamente l'abilità del comandante che da più due più zero ricordiamolo quindi un forte boost ci permette sicuramente di svoltare con tanti di tanti forti eventualmente l'attacco è un attacco decisivo e quindi portarci a chiudere con molta più facilità chiudono questa sezione alcune carte che non sono legate direttamente agli umani ma sono estremamente forti e quindi trovano sicuramente posto in una bid mardu ragavan e solitude che è decisamente nuova che ovviamente ci offre una rimozione e quindi un vantaggio per un effetto di evoke che può essere tranquillamente sfruttato e smuggere le scopter che è comunque un 3-3 volante che ci può far comodo con qui uno può essere sfruttato dalle pedine create dal comandante o da altre che noi abbiamo a dotazione quindi tornando al nostro la nostra analisi a quello che è stato un raffronto tra una vecchia lista e una nuova vedete bene che le carte tolte sì alcune sono semplicemente delle spell altre sono protezioni c'è un po di tutto oggettivamente ma il veglio che hanno raggiunto gli umani le nuove stampe hanno portato a veramente un cambio sostanziale della build e anche della strategia quindi non più poche creature magari pompate da una spada piuttosto che da qualche effetto estemporaneo ma un board una vera tribe a tutto tondo che punta a fare numero che punta a fare vantaggio e che sicuramente in una build rivisitata rispetto al meta attuale che è un po più veloce potrebbe fare sicuramente bene speriamo che questa carrellata vi abbia interessato incuriosito e magari portato a ripensare a questo comandante in un'ottica diversa se vi piace questo tipo di video ditecelo nei commenti e come sempre condividete e piacciate i nostri video noi saremo sempre qui per darvi supporto e spunti per le vostre build preferite grazie a tutti grazie a tutti